Aggiungi una nuova tavola. Scegli il formato del foglio e l'orientamento. Scegli il cartiglio proposto oppure uno tra quelli disponibili. Posizioni il cartiglio sulla tavola. Riporti sul foglio le tavole grafiche con il drag and drop. Richiedi la stampa e definisci le opzioni. Avvii l'anteprima di stampa dell'elaborato. Richiedi la stampa della tavola su carta. Esporti l'elaborato in uno dei formati disponibili. Dalla home esporti la tavola in formato DXF, DVG. Dalla home. Grazie a tutti.